La serata sono per questi straordinari ragazzi che hanno cantato per noi, sono i ragazzi del Istituto Comprensivo Carinola Falciano del Massico di Carinola in provincia di Caserta, hanno avuto il compito di aprire la nostra serata di quest'oggi, sono stati bravissimi veramente, ci hanno dato l'energia giusta, vi salutiamo con un applauso perché se lo sono meritato tutto qua. Welcome to the Istituto Comprensivo Carinola, Falciano del Massico from Carinola, tonight they open the second part of the International Music Festival in Schools. Abbiamo aperto con la tarantella e con i ritmi del sud del nostro paese veramente un grande inizio per quella che è la seconda serata del GERF, il Festival Mondiale della Creatività nella Scuola, evento ideato dal Cavaliere Ufficiale Paolo Alberti, evento che quest'anno festeggia la sua ventesima edizione. aree aree C'è da rosa già bruciata, lì da parte la miscata Tante rosa, rosa e latte, la facendo il corpo fatta Non c'è bisogno di sinpera, ma di vino a bruciare Come da parte a mamma, la rosa c'è meglio te Come da parte a mamma, la rosa c'è meglio te Come da parte a mamma, la rosa c'è meglio Come da parte a mamma, la rosa c'è meglio te Come da parte a mamma, la rosa c'è meglio te Come da parte a mamma, la rosa c'è meglio te Come da parte a mamma, la rosa c'è meglio te Come da parte a mamma, la rosa c'è meglio te Come da parte a mamma, la rosa c'è meglio te Come da parte a mamma, la rosa c'è meglio te Come da parte a mamma, la rosa c'è meglio te Come da parte a mamma, la rosa c'è meglio te